Arrivano delle clamorose indiscrezioni riguardanti la celebre showgirl argentina. Pare che Belen Rodríguez sia in procinto di lasciare media sete e di dire addio a Tussi Cuevales A sganciare la bomba è stato il settimanale spy. Si parla addirittura di un suo approdo in Rai Ma c'è di più, il nuovo direttore di Rai 2 è deciso ad avere anche Stefano De Martino nella sua rete Belen Rodríguez come Simona Ventura? Presto l'addio a Mediaset? Nel dettaglio, vi svegliamo che Belen Rodríguez sarebbe in cerca di una svolta lavorativa importante che possa far crescere la sua carriera televisiva In Tussi Cuevales, l'Argentina si è comportata in maniera impeccabile. A darle quanto agognato potrebbe essere proprio Mamma Rai Secondo Spy, la Rodríguez ha persino rifiutato la giuria nella pupa e il secchione Punto dunque, ben presto potrebbe seguire la scia di Simona Ventura ed emigrare altrove Ma attenzione, non è detto che vada alla Rai, anzi si parla anche di un canale del digitale terrestre Lei è pronta a rischiare così recitano le pagine della rivista di Alfonso Signorini Stefano De Martino corteggiato da Freccero, potrebbe condurre Made in Sud.Intanto arriva l'annuncio del nuovo direttore di Rai 2 Carlo Freccero è pronto a riportare Made in Sud. Pare che il programma comico inizi il 25 gennaio e ci sarebbero anche delle novità Freccero ha anticipato che vorrebbe affidare la conduzione a Stefano De Martino A quanto pare, Belen e il suo ex marito sarebbero pronti a rimettersi in gioco Non resta che attendere ulteriori conferme o novità in merito per scoprire quale sarà il loro destino televisivo Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like Grazie a tutti